Fatta la cacca il culo si sciacqua, bidibibodibide, dai lavati il culo anche tu come me, bidibibodibide Ma io quanto sto godendo, ma quanto sto godendo, è finita ieri Francia-Svizzera Dopo i 90 minuti regolamentari, che sono finiti 3-3, ai calci di rigore clamorosamente sul possibile pallone d'oro Kylian Mbappé, che la Francia perde i rigori contro la Svizzera, decisivo, un quinto rigore Perché fino a lì non aveva sbagliato neanche uno, decisivo, un quinto rigore, sbagliato da Kylian Mbappé Parato da Sommer, il predestinato, anche i predestinati sbagliano Anche chi deve salire, che ha il destino, il dovere e la forza di poter salire sul trono d'Europa sin da ventenne Chi ha il talento per diventare veramente uno dei più grandi della storia, sbaglia E la Francia se ne va a casa, adesso Deschamps, deve avere la cagarella, deve avere la cagarella Cagati sotto Deschamps, cagati sotto Perché deve averci la cagarella Deschamps Perché C'è veramente La Francia, allora la Francia cosa ha fatto? Gol di Seferovic, Seferovic poi migliori in campo Gol di Seferovic Cosa fa la Francia? Continua a giochiare, giochicchia di qua di là Poi clamorosamente, il 50, mi pare il 52esimo, una roba del genere Rigore per la Svizzera E cosa fa? Riccardo Rodriguez, al 55esimo, pensa bene di sbagliare il rigore Cioè l'ha anche angolato, però Ioris ha capito l'angolo, ha detto è un mancino, apre il sinistro Ha fatto così E... Ebbene sì, l'ha parato Ioris, cosa fa? Quando sbagli i rigori e sei contro la Francia, c'è una scuola minore che può andare sul da zero Una cosa sola puoi fare, andare sotto E beccartela nel culo la partita Infatti segna Benzema, ancora Benzema Un po' di cambi e 3 a 1 Un mangi di Pogba, poi non so, un lampo E' successo un lampo perché Seferovic si inventa un altro gol Veramente, è grandissimo Seferovic Di testa su Asi di Mbappu Fa 3 a 2, poi al novantesimo All'ultimo, grande azione di Mario Gravanovic Che da la panchina entra e segna in questa maniera qui con un gol all'angolino bellissimo Al novantesimo Cosa succede? Si fa supplementare Niente di che la Francia si sbilanci un po' E la Svizzera si, insomma, rifà Se arriva i calci di rigore Gravanovic è il primo Segna, Pogba risponde Shara 2 a 1 Giroud risponde Akanji 3 a 2 Turam risponde Vargas con un brivido 4 a 3 Che per me risponde Meme di fa 5 a 4 E ma Benzema sbaglia a parata di Sommer E quindi la Francia se ne va a casa agli ottavi E mi viene da ridere Ha! 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 Tenete i francesi e andate A quel posto lì che ve lo meritate All'Elefranc All'Elefranc Su Camelucas E va In vacanze Ciao ragazzi Mi raccomando Tante abbi su questo video Ragion Quota 20 Parola di post partita E niente Ciao